Quando si è reso conto di quello che ha fatto, è scoppiato in lacrime. Così avrebbe reagito, dopo aver capito la gravità del gesto commesso, Manuele Andreini, il 47enne, che nella notte tra giovedì e venerdì ha ucciso la madre, assunta di 85 anni, soffocandola con un cuscino. L'anziana stava dormendo in camera da letto nella casa di Calbenzano, dove da anni viveva con il figlio. Dopo l'omicidio è stato lo stesso 47enne, operaio metalmeccanico in cura per disturbi psichici, a chiamare i carabinieri. Ha confessato ed è stato arrestato, un delitto che ha sconvolto un'intera comunità che ancora oggi si domanda come sia potuto accadere un fatto del genere. Gente buona, per bene, ha commentato il sindaco di Subbiano, Ilaria Mattesini. Per la nostra comunità questa tragedia è stata un vero fulmine a ciel sereno. Intanto è stata fissata per il prossimo 17 ottobre l'udienza di convalida del fermo nel carcere di Sollicciano, Manuele Andreini, difeso dall'avvocato Francesco Vanni Maria Guzmano, potrà avvalersi della facoltà di non rispondere. Il giudice poi deciderà la misura cautelare da adottare, se mantenere Andreini in carcere o in una struttura sanitaria giudiziaria. Il PM Francesca Eva, titolare delle indagini, sempre lunedì affiderà al medico legale l'esame autoptico per accertare con precisione le cause della morte della donna. Al momento il fascicolo è aperto per omicidio volontario aggravato dal rapporto figlio-madre.